Animaio, biciclettata! Fra un attimo partiamo, usciamo tutti dall'uscita di via Vittorio Emanuele, perciò se magari vogliamo cominciare a spostarsi verso l'uscita di là... Benvenuti a tutti, allora siamo pronti per la partenza, tutti insomma benissimi allineati. Siamo pronti, partiamo, partiamo, buona bicicletta per tutti, attenzione alle portali. Grazie. 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 Grazie.